10.000 mi piace e lasciate un commento qui sotto con la prossima sfida da fare ad ogni ora per tutto il giorno Ciao a tutti ragazzi e bentornati al mio canale Oggi ragazzi siamo qui di nuovo per fare una nuova sfida col cibo ragazzi ad ogni ora Visto che l'ultimo video vi è piaciuto tantissimo dove abbiamo mangiato McDonald's ad ogni ora Oggi ragazzi andremo a mangiare Burger King ad ogni ora Quindi mi raccomando lasciatemi subito un commento qui sotto Se preferite il Burger King o il McDonald's Adesso sono le 11.08 Ragazzi è domenica anche per noi quindi siamo svegliati un po' più tardi io e Tatino che sta filmando Quindi adesso andiamo al Burger King e andiamo a mangiare Ragazzi vado ad ordinare colazione leggera ovviamente perché la giornata è pesante quindi vado Ciao Tati Ciao C'è il tavolo ordinato? Tati ho preso il waffle Waffle poi quella cosa lì che si è panna? E credo sia gelato E un caffè? Eh sì Beh dai colazione iper leggera Beh sì Questi li ho presi per dopo perché ovviamente non posso uscire tutto il giorno per venire qua Ogni tanto ordiniamo e intanto veniamo ogni tanto ce lo portiamo dietro Va bene va bene Tati vuoi assaggiarlo? No no Questo è nato la finisca Eh lo so Allora sentiamo se questo intanto è gelato Sì Buono? Questo è gelato Che altro sentiamo sto waffle? Tatia la tua Vai Ma è caldo? Tati Ma vuoi presa la nocciola o cioccolato? Kit Kat Ah È stra buono Ma capito di assaggiare Però aspetta voglio fare una porcata Dimmi Tati Devi fare anche così Sì Così? Vai Porco Non riesco a prenderlo Ok Tati quanto è buono Ok ciao me la faccio in questa sfida Vai mangiano ancora un po' se vuoi Un'altra porcettata va bene Un'altra? Sì sì Poi dopo tocca a me però Oh ma allora facciamo la sfida in due Eh sì Io e Tatino mangiamo per ogni ora Per una giornata intera Buon buon Ragazzi voglio fare una sfida con voi Tutti quelli che indovineranno Verranno salutati nel prossimo video E li lascerò un cuore Quindi mi raccomando Commentate con quello che vi sto per chiedere Vediamo a fine giornata quanto ho speso Quindi scrivetemi qui sotto il totale Siamo a 2,90€ Più 4,20€ Vediamo i prossimi pasti Vediamo a fine giornata Quanto abbiamo speso Ok caffè dove sinceramente non mi aspetto niente di buono Perché il caffè del Burger King Caffè lungo? Ma è un caffettazzo Acqua e caffè? Acqua e colorante? Mi dispiace questo non lo posso fare Posso mangiare panini per tutto il giorno Ma questo caffè ragazzi non lo posso bere Comunque ragazzi Primo pasto della giornata fatto Sono le 11 e mezza Quindi ci vediamo alla mezza ragazzi Con il prossimo pasto Che non so Se sarà subito il pranzo Vedo con i ragazzi O se no Ci facciamo lo spuntino E poi dopo mangiamo Quando mangiano gli altri Però ordinando un bel panino Ok ragazzi Mezzogiorno e 39 Quindi è il momento Fare la merenda Vati questo è troppo piccolo Eh non ti aiuto dai Eh vabbè non giusto solo Anche perché diciamo che è un dopo colazione Sì è un altro dolcino KitKat Che stavolta ragazzi Ti piace KitKat? Eh In realtà è un botto che non mangiavo KitKat Questo invece è Succo Succo d'arancia Sbattilo bene Succo d'arancia Va schifo Come va schifo È amaro Metti ciò un po' di zucca E dove lo prendi lo zucchero? Non l'hai preso? No Non mi sa lo zucchero che cosa ho già fatto Così lo risbattavi e Ah mi prendi un po' di zucca d'arancia E fammelo assaggiare Vedete se sono curioso Se amaro Dimmi com'è poi eh Dai Sai quale sembra? Quello che passano sull'aereo Già dalla torchezza Vai bevi 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 Vai dati Com'è? Sembra quello Quello degli aerei Bello insomma dai Però da sì È da finire Dai bevilo tutto dai Cioè alla fine Non è proprio malissimo Deve esserci di peggio Finito Quindi ci vediamo Verso l'una e tre quarti Più o meno Questo è uno spuntino Esatto Ok ragazzi Sono le tredici e trentacinque Come state leggendo Harry si legge? Ok Ho ordinato da Just Eat Quindi Burger King consegnerà alle due e zero e cinque Quindi non riuscirò a mangiare chiaramente ai quarantacinque Però quando arriva alle due e zero e cinque Mangiamo Ok ragazzi Eccolo qua Eccolo qua È arrivato Allora Da bere Classico il Fuse di Harry Se lo vuoi dire E abbiamo Ah qui c'è l'amburre da solo Ah bello Bisogna l'amburre così Qui c'è l'amburre Eccolo qua Con la cotoletta Il pomodoro E l'insalata Per questo per me niente Ognuno Sai di Per te vediamo Quello che rimane Vabbè Qui ci sono le patatine Le nuggets Sono le patatine Da lì E poi Le nuggets Esattamente Che sembra più cibo per cani Però fa niente Le cose sono brutte oggi No mi preferisco Preferisco quello del Mac Eh lo so da te Ti va a me Io devo guardarti mangiare L'ho capito Vabbè dati dai due nuggets Se li puoi pigliare Comunque Buon pranzo Quali sono più buoni Del Mac Del Mac Ragazzi Secondo voi è più buono Il McDonald O il Burger King Ultima moscia del panino Ok Ok Vabbè Tatino mi ha lasciato due nuggets Grazie Tu perché ti ho mangiato altre Perché ti ho qui di fianco È normale Cioè Devi partecipare Perché sei triste No vabbè Allora Comunque visivamente Cioè sono veramente brutte Cioè sono veramente cibo per cani Vediamo un po' Il gusto Civile Non è uguale Ah quale del Mac È un paragonabile Vincolo A mani basse proprio Ultima nuggets Un boccato Ma che patatino Due patate Praticamente puoi finire tu Tranquillo Vabbè dai facciamo questo sforzo Questo sforzo è enorme vero Eh sì dai Comunque ragazzi Oh Allora Sono Le 14 12 e 24 Perché il Corriere è anche Cosa è arrivato un po' tardi Quindi In tireria ci vediamo Verso le tre e mezza E vediamo insomma Cosa andare a mangiare Oh finalmente Eccolo qua Mamma mia Mezz'ora ci ha messo questo Non è arrivato come il dolce Ah finalmente Oh ecco di qua Mezz'ora ci ha messo Eh Harry perché non c'era il tuo oreo Per quello Quindi come l'hai preso Allora Perugina Tati Grazie Spero vi piaccia Ok Tati è la stessa panna Che c'era stamattina Con il waffle Comunque Amma Ti sono sempre quella Fa niente Pure nel panino Ti mettono quella Pretende che sia buona Ragazzi ho finito Allora guardate Stralo eh L'ultimo cucchiaio ragazzi Mi ha ghiacciato sto coso Era buono vero? Sì Tra un'ora non ci ha mangiato Allora vediamo Comunque 15.55 ragazzi Ci vediamo più o meno Alle 5 Quindi alle 17 Boh Vediamo cosa possiamo mangiare Decideremo insieme a Tati Sì 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 ragazzi C'è 7 e 18 Quindi è arrivato il momento Di mangiare E io volevo prendere Solo 6 nuggets Però Tati non vuole partecipare Anche lui E quindi ragazzi Mi abbiamo preso esattamente 20 Tati guarda Oddio Che figata Cos'è teatrice Cos'è ragazzi Un labirinto Perché? Comunque Tati Eh oh ma non ci perdiamo In chiacchiere dai Eh sì Ma sono belle calde Si vuole perdere in chiacchiere Mmm bene buone Somma Io preferisco i nuggets Anche io però L'ho appena sfornata C'è appena fatta Questo ma ce l'ho preso adesso Eh sono belle belle Buone mercato Hai di questa giornata una? Ok Come c'è l'ultima E l'ultima nella scatola Quindi te la lasciate l'ultima Comunque voglio dire una cosa La sfida l'abbiamo fatta Praticamente in due Quindi voglio il doppio dei like Almeno Ultima Lati Fai Sono fatta di cartone Comunque sono finte Per quello devi bere Così la butti giù Ultima morso E ragazzi ci vediamo Tra esattamente Un'ora Ok ragazzi È arrivato già stito Grazie per accompagnarmi In quest'ultima prova Ragazzi Ecco Allora Io scomento che mi ha sbagliato Tutto il video Sicuro l'ho sbagliato Perché l'ho preso Diverto L'hai preso strano Questo È buono Oddio scontrino Mi serve Perché adesso ragazzi Era l'ultimo prezzo Che è Harry 30 euro e 90 centesimi Ragazzi Quindi Perché l'ho lì La consiglia Quindi ragazzi 30 euro e 90 centesimi Commentate qui sotto Con la cifra Alla quale siamo Allora Qui c'è un panino super triplo Che sarà sicuramente il tuo Quello che pesa 3 kg Ho preso solo la panina lui Ma che roba No mi sa che l'altro Sono solo le patate Bello Cos'è Il più sottile Se è come tu E la soglola C'è tolto tutto Infatti qua c'è l'insalata No Ma ci ha messo le salse Sodo Se me non piacciono le salse Che Non hai detto di toglierlo Ma quando c'è il vuo Bello No È arrivato Guardi ormai è arrivato Corco d'orbo Uh le patate anche Ragazzi Le patate Le patate Farò questo sforzo Questo sforzo È già partito quello Quello è già arrivato Già partito è già arrivato Ragazzi Insalata Pollo Cessera Sì E pomodoro Ultimo morso ragazzi C'è una bestia È così Mi accetto quello della palestra Domani a mezzogiorno e un quarto Ok Ultimo morso Del mio Burger Burger King Rap Vedai non era pesantissimo No No questa era buona Ma non è più che era pesante È il corso della giornata E dopo un po' Inizia A demolirti Adesso non c'è l'ultimo L'ora Stai Dai no È da dividere Dai No 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 Dai dai No Aiutati Inizia a mangiare Dio santo Che ero più coglioni È vero Che fatica È Guardate come è scontento Di mangiare Ragazzi Vabbè Devo fare l'altro Sbrigati Ok C'è la camera Ce ne sono ancora C'è la cosa piena Fatti dai ci sta scappando La memoria piena Fatti gli ultimi dai Devo fare l'altro Ok Vai 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 Altre quattro Vai 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 da di Ma Fai vedere che vuoto Ok Questo è finito ragazzi Quindi ragazzi Mi raccomando Basta Perché muoio Se no Fatemi sapere qui sotto Con un commento La prossima giornata Da fare Dove ogni ora Mangio qualcosa Di strano Quindi qualcosa Il Burger King Abbiamo fatto fino adesso Cambiamo un po' Harry ha fatto la pizza E il kebab Ragazzi Non avete idea Se non li avete ancora visti 10.000 mi piace Rifacciamo la sfida Come sempre Grazie alla visione Grazie di tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Sì Basta Devo morire